Benvenuti a MeteoGiuliaci.it. Dopodomani, venerdì 21 settembre, tempo bello e soleggiato su quasi tutta l'Italia per il definitivo allontanamento della perturbazione giunta mercoledì. Ma vediamo l'immagine del satellite virtuale, vedete un po' di nuvole sulle regioni alpine, zone pedromontane, perché c'è una perturbazione debole in movimento a nord e delle regioni alpine. Ma vediamo allora il tempo che farà dopodomani, vedete bello il soleggiato quasi ovunque, un po' di nuvole invece sulle Alpi con qualche rovescio su quasi tutte le regioni alpine e anche nel Veronese, per il resto direi non vi è null'altro da rilevare. Allora passiamo a vedere le temperature massime previste per venerdì, temperature massime al centro nord e comprese tra 19 e 23 e 24 gradi, quindi al di sotto della meglia del periodo, invece ancora valori tra 23 e 26 gradi sulle regioni meridionali e con qualche punta anche di 30 gradi nel sud-est della Sicilia. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto, ancora un buon giorno.